Brave and Beautiful, trama puntate. Giovedì 15 luglio 2021. Sia Jesur sia Swan non fanno altro che pensare a quello strano bacio. Swan capisce che forse dietro c'è una strategia, mentre Jesur è convinto che la cosa avrà ripercussioni per sempre. Tutti e due sanno che però sarà molto difficile scordare quel momento e questo potrebbe non essere positivo per nessuno. Jesur è sempre più dubbioso e continua ad avere la sensazione di essere in procinto di rovinare il suo piano. L'intesa con Swan è sempre più forte e cresce ogni minuto. Jesur intanto si convince che questi suoi sentimenti non sono ricambiati e crede anche che tale bacio improvviso rafforzerà in Swan i sospetti su di lui e anche la voglia di innagare. Banu che ha iniziato a provare dei sentimenti verso Jesur viene a sapere del bacio che ha scambiato con Swan. Temendo di perderlo e che il suo amore verso la ragazza si sviluppi decide di organizzare un piano per tenere lontana la coppia. Kahide nel frattempo decide di prendersi una pausa e smette temporaneamente di concentrarsi sulla sua falsa gravidanza per creare problemi a suona. Grazie. Grazie.